Avellino e Salernitana come finisce? 2 a 1 per noi, proprio tranquillamente. Avellino vince. Penso che ce la facciamo. Sicuramente sarà una grande partita, penso che vincerà l'Avellino. Diamo 2 a 1. 1 a 0. 2 a 0, 2 a 1? Scaramanzia, sì, 3 a 0. Noi vengono loro, noi diciamo che vengono, ma noi finisci in battito. Io metterei un 2. Tifo Napoli, questo è il mio pronostico. L'Avellino deve vincere a tutti i costi. 1 a 0. Per forza 1, solo 1. Risultato finale, 2 a 1. Sono un tifoso del Napoli e darei un X. Un pareggio. Un pareggio, perché amo tutte le squadre campane. Io metterei un 2. Dobbiamo vincere per 2 a 0, minimo. Dobbiamo vincere, ci dobbiamo metterla tutta. A me se non concesso che ci potrebbe essere anche un 1, addirittura un X, come diceva il collega, che ben venga. Saremo ovviamente allo stadio per dare un po' di supporto alla squadra. Ho letto che la curva è completa, spero almeno l'80% dello stadio pieno. Spero che anche se giocando male l'importante è portare i tre punti a casa. Io mi aspetto finalmente un Avellino un po' più convinto. Abbiamo fatto anche prestazioni un po' sotto tono alla squadra non convinta. Difensori che secondo me non sono tutti all'altezza, però c'è voglia. Secondo me domani sarà un partitone, ambiente carico e 2 a 1 per noi. Marcatori secondo me segnerà un sostituto che entrerà al secondo tempo e farà un gol e farà impazzire tutti quanti. Troppo, mi chiedi troppo. Non sono la SNAI. Verde Se gioca a Gigione è Castaldo. Castaldo uno e verde l'altro. Castaldo Castaldo Castaldo, sì. Vado per Castaldo perché mia mamma fa di cognome Castaldo. Castaldo, Mugulu Verde Verde A gennaio sicuramente voglio due difensori di quel centrale. È un centrocampista di quelli seri anche svincolato, vecchio però che ne capisce di calcio. Credo che si dovrebbe rinforzare i due terzini che non ci sono. Credo anche un bel mediano tecnico buono. Regali, mi piacerebbe un ottimo centrocampista. Cinque, minimo cinque. Serve qualche centrocampista buono che stiamo proprio arretrati. Eppure in difesa si fa acqua. Lo sapete bene, no? Ci vogliono tre o quattro elementi. C'è da rivedere un po' in rosa, c'è da rivedere un po' di gente, però c'è da lavorare. Ci vogliono due centrocampisti perché non abbiamo centrocampo. Non ne abbiamo. Tra attaccanti, mediale e difesa. La difesa proprio... L'attacco può andare. Ci sta da lavorare molto. Vivendo qui ad Avellino spero che possa tranquillamente vincere l'Avellino perché comunque oltre a quella che può essere la passione, la fede calcistica, ci sta sempre rispetto per chi ti dà da vivere. Quindi forza Avellino per domani, da Napoletano lo dico. Una partita molto tirata da tutte le due le squadre. Con molte azioni decisive. Sicuramente sarà una bella partita. Speriamo sicuramente di vedere una partita interessante, nella speranza di una vittoria pre-natalizia per ripartire dal 2016 e entrare bene nel 2017. Io penso che sarà equilibrata, la partita è equilibrata. Buon Natale, forza Lupi! Buon Natale, forza Lupi!